Anche questa settimana appuntamento con i libri, tra le righe, incontro con l'autore, presentiamo un romanzo edito dalla San Paolo, a firma di Carlo Maria Paradiso. Il libro si intitola Che succede, signor parroco? e lo chiediamo al suo autore in collegamento Skype con noi. Un saluto da San Giovanni Rotondo a Carlo Maria Paradiso. Ciao, benvenuto. Eccoci, sì, bentrovati a tutti. Allora, eccola qui, così come l'hai definita, la tua prima storia romanzata. Un racconto leggero, poi scopriremo perché è leggero, per riflettere in e su questi tempi così complessi. Carlo, da che cosa nasce, da quale bisogno nasce l'esigenza di scrivere una storia leggera per riflettere su quello che accade oggi? Dunque, io partirei da questo. Io sono un giovanotto di 55 anni e quindi ho l'età per aver visto nella mia infanzia un mondo che non esiste più, che è il mondo dei piccoli paesini della Brianza, in questo caso la zona che è a nord di Milano, tra Monza, Lecco, eccetera. Questi paesini, quando io ero un bambino, un ragazzino, erano veramente dei piccoli mondi e molti italiani conoscono questo ambiente di provincia, questo ambiente di piccole realtà. Oggi cosa succede? Succede che questa realtà geografica si è tutta trasformata, ci sono superstrade, strade, zone industriali, il mondo cambia e mi sono chiesto se è possibile ancora parlare di una dimensione locale, di una dimensione sotto il campanile, di vicende che però sono grandi, che riguardano il mondo, che sono globali. L'idea è iniziata un po' da qui, è nata così, raccontare una storia molto locale e molto retro, legata un po' al passato provinciale del nostro paese, ma nel mondo che è cambiato. Per cui nel nostro paesino della Brianza, che ho inventato, che ha questo nome un po' provocatorio, si chiama Sciurcanosta, dove i Brianzoli vorrebbero stare da Brianzoli come una volta, e si vive una vicenda che dopo pochissimo che è cominciata acquisisce immediatamente una dimensione universale, a causa di internet, a causa dei mezzi di comunicazione di oggi, per come le notizie vere o false circolano rapidamente, e per cui si capisce che un battito d'ali di una farfalla in un paesino della Brianza coinvolge una realtà nazionale, europea e mondiale. Succede questo in questa storia che diventa così molto curiosa e molto ricca di incontri e di voci. Da lì l'idea di raccontarsi. Allora, non voglio svelare troppo, perché è un racconto leggero appunto come è scritto, ma non leggero inconsistente, è un racconto strutturato, che però si lascia leggere con grande intensità, ma appunto anche semplicità. Protagonisti di questa vicenda sono un gatto, sono un parroco, sono una comunità, e sono anche delle persone che non vorrebbero accogliere nella loro comunità. Spero di averla sintetizzata bene senza raccontare troppo. Sono gli ingredienti che fanno avvio alla storia, sì. Ecco, tu scrivi che questo è al tempo stesso un romanzo giallo, rosa, verde, azzurro, viola, ma non nero. Allora, il giallo c'è, si tratta di risolvere il problema di un rapimento, e quindi abbiamo una sparizione, abbiamo quindi la preoccupazione di chi è legato a questo personaggio che viene fatto sparire, che viene rapito. C'è un ricatto, c'è un ricatto che si tinge di motivi politici, ideologici, si parla di accogliere o no degli immigrati in questo paesino dell'Abrianza. C'è di mezzo il parroco, quindi abbiamo anche una dimensione subito di carattere spirituale, di carattere pastorale. Questo parroco è un uomo molto sensibile, amato da tutti, senza differenze, un uomo che prima di tutto accoglie la sua gente, quindi non fa differenza tra chi è legato, che so, al mondo della destra o della sinistra. Per lui tutti sono importanti e tutti si sentono importanti. Quando si scatena questo giallo, non dico niente di particolare, per non svelare gli sviluppi della vicenda, quando scoppia questo piccolo fatto di cronaca locale, tutto questo meccanismo va un po' in crisi. Il parroco infatti è un po' deluso, perché si aspetta una comunità unita, dove non capiti niente di grave, dove non si faccia torto a nessuno. Dunque il romanzo diventa anche un romanzo in cui si riflette che cosa vuol dire oggi essere una piccola comunità, piccola o grande, che cosa significa collaborare, non avere sospetti su nessuno, intervengono poi le forze dell'ordine, poi come accennavo poco fa, intervengono anche tramite internet voci diverse che addirittura escono dai limiti del paese e piano piano tutto cresce. Ci sono tutti i colori, molti colori della narrativa, non c'è il nero, nel senso che si rimane sul filo di una leggerezza pensosa. C'è anche una figura bella di un santo, poco conosciuto al grande pubblico, che dialoga con questo parroco, un po' come Don Camillo dialoga con, il mitico Don Camillo Peppone, e Don Camillo dialoga con Gesù stesso. e non c'è il nero perché la violenza, la contrapposizione, il dramma non ha l'ultima parola. Ma perché non ha l'ultima parola? Questa è la scoperta da fare leggendo il libro. Esatto. Parlando appunto di leggerezza, hai definito questo racconto leggero, ti sei anche un po' ispirato a Italo Calvino, una citazione che è questa, prendete la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall'alto. Un po' quello che hai fatto tu con questo libro, con questo racconto. Certo, sì, sì, sì. L'idea è proprio questa, cioè accompagnare il lettore a scoprire passo passo gli intrecci e anche le complicazioni di questa vicenda, rendendosi conto che a volte siamo un po' vittime di cose che diamo per scontate, che non affrontiamo mai, che rimandiamo e che fanno un po' parte in realtà così della nostra vita quotidiana. Quando poi però siamo chiamati a pronunciarci, a prendere una posizione, a collaborare con gli altri, eccetera, allora la leggerezza quotidiana è il luogo di piccole e grandi scelte. Per raccontare questa sfida, che diventa un po' una sfida morale anche, è bene, secondo me, ecco la proposta del racconto è questa, mantenere il sorriso, l'autoironia, mantenere il valore di una, di un rispetto, ecco, per la serenità il più possibile, per quanto la si possa mantenere. E questo non impedisce di arrivare alla profondità delle cose, anzi diventa una porta d'accesso privilegiata per questo. E accenno al fatto solo che nel libro, chiaramente, non l'ha intuito, si parla di temi attualissimi, culturali, politici, ecclesiali, anche spirituali, ma tutto con questa chiave che fa sì che il lettore anche, non si trova bloccato su qualcosa che lo investe con grande peso, con grande definitività, ma si trova stimolato a tirar fuori la parte migliore di sé, che è sempre accompagnato dal sorriso. Ecco. Una nota di merito, permettimelo per la copertina, anche per i colori che avete utilizzato, questo verde acqua, verde tiffani, potrei dire, il blu, e in copertina, ecco, due dei personaggi della tua storia, c'è stilizzato, un gatto, è un sacerdote, in questo caso, è appunto un parroco, che tira un pallone, ha un abito talare, e quindi, però c'è anche un'elegante rovesciata, rovesciata, ecco, perché tu fai anche un omaggio a un grande del calcio italiano, diciamolo chi è. Certamente, Gigi Riva, il quale tra l'altro ha anche ricevuto il nostro libro, l'ha letto, mi è piaciuto, ma dunque, il tema dello sport, anche, è uno degli ingredienti, il nostro parroco è un bravo calciatore, che si ispira a Gigi Riva, sia per la tecnica calcistica, quindi si parla di questo, e sia anche per lo spirito di uno sport, d'altri tempi, potremmo dire, no? Anche questo è un elemento molto importante, ecco, in copertina, ci sono questi due elementi molto, molto interessanti, l'amore per gli animali, lo sport, tutte cose che in qualche modo, insieme con altri elementi, che si sviluppano nella storia, devono legare invece che dividere, ma se usate male, portano appunto anche a delle contraposizioni, dei problemi seri. A raccontare di queste partite, ci sono delle pagine in cui si descrivono delle partite di calcio, è stato un esercizio interessante, sento dei lettori che mi dicono che leggendole queste partite, le si vive molto bene, che non è semplice, scrivendo, e non usando il video, non usando immagini, e anche questo piace molto. Devo dire, anche il mondo dello sport ha bisogno di un po' di leggerezza, anche lui, come la politica, come le grandi discussioni culturali, altrimenti sembrano sempre tragedie, invece lo sport anche può essere vissuto con la giusta leggerezza. Esatto, allora ricordo ai nostri amici telespettatori il libro di Carlo Maria Paradiso, edito dalla San Paolo, Che succede? Signor Parco, quindi un racconto da leggere, quindi vivamente consigliato da noi, io ringrazio l'autore per essere stato nostro ospite in collegamento Skype, e perché no, ti aspettiamo per il prossimo libro, per il prossimo racconto. Grazie. Grazie a voi, arrivederci. Grazie a tutti.